Danzatrice di Perugia presenta un brano Cairo Style Per lei la danza è una vera passione e la definisce una parentesi di un barascolo di se stessa in Honey Shekher Vani a Shekhi Grazie 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 Non mi basta negli anni, non mi basta unknowns Per l'arruzione, non mi basta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti